Non si apre col piede giusto la discussione del bilancio di previsione del Comune di Pavia. Ancora una volta il Consiglio Comunale è saltato per la mancanza del numero legale e così la seduta è durata appena una ventina di minuti, giusto il tempo di fare i due appelli previsti dal regolamento. Considerato il numero di presenti, che è di 16, quindi non è raggiunto il numero legale, dichiaro chiusa la seduta. Grazie. Si tratta del 14esimo Consiglio saltato in altrettanti mesi. Che vi sia un problema di numeri in maggioranza non è di certo una novità. Per l'approvazione della prima parte del documento economico, ovvero il DUP, l'amministrazione era ricorsa infatti all'escamotage della seconda convocazione per poter usufruire di un numero legale più basso per avviare i lavori. Mentre in prima convocazione la maggioranza deve garantire 17 consiglieri, in seconda ne bastano infatti 11. Il calendario nel frattempo si fa fitto, intrecciandosi con le trattative dei partiti per la scelta del prossimo candidato sindaco della coalizione di centrodestra. Le prossime due settimane, in tal senso, si preannunciano piuttosto calde. Il 19, 20 e 22 sono programmate le prossime sedute dedicate all'approvazione della parte economica finanziaria del bilancio dell'ente. Un passaggio cruciale, visto che attualmente gli uffici comunali stanno lavorando in dodicesimi, programmando cioè mese per mese le spese senza una visione di insieme. Sempre in tema di consigli, lunedì 26 è programmato quello dedicato alla variante al PGT, dopo il rinvio dei mesi scorsi. Una volta definiti, nel bene o nel male, questi due fondamentali appuntamenti, i partiti della coalizione torneranno ad incontrarsi per la scelta del candidato sindaco. Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia si sono dati appuntamento per il 27 febbraio, il giorno successivo al capitolo PGT.